Sono davanti al palazzo Budini Gattai o palazzo Griffoni in piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Sapevi che ha una finestra in alto a destra che rimane sempre aperta? Al massimo con le persiane socchiuse. La leggenda, ambientata alla fine del Cinquecento, narra che una giovane e bella sposa passò tutta la sua vita a ricamare davanti a quella finestra, aspettando il ritorno del suo amato dalla guerra. Ormai vecchia, morì sempre spiando dalla finestra e aspettando il ritorno dello sposo. I parenti, dopo aver portato via il corpo, provarono a chiudere la finestra, ma iniziarono a volare libri, a ballare mobili, a accendersi e a spengersi dei lumi. Si dice che il suo fantasma sia ancora lì e chiudere la finestra causi tutti questi fenomeni. Un'altra storia vuole invece che sia la residenza di un'amata, di un'amante segreta del Granduca. Infatti la scultura, come potete vedere, guarda proprio in quella direzione. Col bel tempo, con la pioggia o la neve, la finestra è sempre aperta.